benvenuti a questa nuova puntata di qual buon veneto alla scoperta delle meraviglie del veneto siamo nel sestiere di santa croce per questa nuova puntata su venezia una venezia insolita una venezia curiosa una venezia non turistica grazie a tutti grazie a tutti la chiesa dei santi simeone e giuda chiamata dai veneziani la chiesa di san simeo piccolo è un edificio religioso appunto di venezia che si affaccia proprio sul canal grande l'edificio risale al nono secolo o meglio queste due famiglie nobili decisero di far costruire questo edificio religioso quello che vediamo adesso però risale al 1738 pensato e costruito dallo zio di tommaso temanza che aveva pensato la chiesa di santa maria maddalena il disegnatore e il costruttore di questa chiesa è giovanni antonio scalfarotto l'edificio è rimasto chiuso per moltissimi anni e solo recentemente è possibile visitarne gli interni e soprattutto i sotterranei sotto questa chiesa abbiamo l'unico esempio di catacombe per ora conosciuto di tutta venezia e con la nostra troupe armati di candele siamo andati a visitarle per voi grazie a tutti 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 a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti